Il 21% della popolazione italiana oggi è anziana e sono sempre di più gli over 60 che con l'obiettivo di rimanere autonomi si dedicano ad attività sportive anche molto intense. Fondamentale però è che nello svolgere l'attività sportiva preferita non si esageri mai. Ci convincono che dobbiamo essere attivi, indipendenti, fare addirittura casomai free climbing a 80 anni. Ecco che lo sport, l'attività fisica diventa un elemento quasi maniacale. Primo consiglio mai deve essere maniacale l'attività sportiva ma deve essere sempre un momento di divertimento per i bambini e di relax per le persone più anziane e soprattutto non deve essere mai portata al punto di rottura. Tutti voi sapete che se un fil di ferro viene piegato una volta non succede nulla, due o un'altra, neanche, ma alla centesima volta si spezza. I nostri tessuti sono materiali e come tutti i materiali sono soggetti a questo brutto termine che si chiama resistenza a fatica che porta inevitabilmente alla rottura. Quindi un corretto allenamento, anche una corretta alimentazione, la corretta esecuzione del gesto atletico, ecco dove entra l'istruttore o in taluni casi il riabilitatore è importante per non correre rischi e cercare di fruire solo dei vantaggi e non degli svantaggi di un'attività sportiva.